fermo lì non ti muovere penso paura no dai fermo allora cosa dobbiamo vedere in questo video c'è sicuramente te stai pensando di cambiare tipo di offerta ti sei stufato insomma questo gestore non ti va bene stai cercando qualcosa di insomma un po più appetibile vuoi un po più di giga una tariffa migliore un'offerta migliore allora fermo non ti muovere aspetta aspetta un attimo non aver fretta aspetta il primo di settembre sì perché si vocifera un qualche cosa che dovrebbe uscire un'offerta molto interessante e ho la conferma ho la conferma perché stanno gironzolando dei volantini e adesso vi spiego un po un po il tutto dopo la sigla siamo tornati qui di cosa si tratta velocemente si tratta di un'offerta da 200 giga sotto la copertura team allora intanto vi voglio far vedere quali sono le offerte più interessanti per se ve l'ho detto no a 7 euro e 90 200 giga 7 euro e 90 allora vi faccio vedere tutte le offerte che ci sono attuali in questo momento dei vari gestori telefonici partiamo da fast web questa l'offerta di fast web offre 150 giga 7 euro e 95 vedete ancora per tre giorni questa vi ricordo che non è quell'offerta con il 5g sempre da 7 euro e 99 qui quindi ci sono 9 centesimi in più a differenza è questa di nt mobile con 50 giga insomma qui se non avete tante esigenze vi conviene magari fare quella annuale da 3 euro e 99 molto interessante poi cosa c'è sempre a 7 euro e 99 quindi parliamo di offerte a parità di prezzo anche se già sono 7 euro e 90 qui sono 7 euro e 99 quindi a parità di prezzo vediamo gli altri registori cosa stanno offrendo iliad vi stavo dicendo con 7 euro e 99 offrono 80 gigabyte poi c'è kena kena che con 7 euro e 99 importabilità vi da 150 giga e 500 sms oppure per i nuovi numeri come vedete 7 99 con 100 solo 100 gigabyte poi un'altra offerta che è di tiscali eccola qui 150 giga 7 99 ma solo per clienti quindi importabilità kena mobile veri mobile e altri se no vi stuzzate quella da 70 giga che ha lo stesso prezzo e questo qui vedete 70 70 giga e 7 euro e 99 ci buttano dentro anche 100 sms poi troviamo qui quella di o mobile che con 7 euro e 99 offrono 150 giga ma sempre importabilità veri mobile altro altro gestore veri mobile che con 7 euro e 99 vi offrono 150 giga per nuovi numeri costo di un euro e 99 e invece è importabilità la sim attivazione è gratuita sempre parliamo 100 questi 150 giga 7 99 poi l'ultimo gestore è uno mobile che sempre con 7 euro e 99 dal secondo mese il primo mese se siete importabilità costerà 5 euro e poi 7 99 invece se sono nuovi numeri pagherà 7 99 nuovi numeri e clienti vodafone logicamente 7 e 99 al mese 100 giga e poi offriranno 20 giga in più dal terzo rinnovo quindi questo cosa sta a significare sta a significare che l'offerta che sta uscendo che è di cop voce io ho fatto quella dove c'era il primo mese gratuito e la sto provando e sinceramente mi devo veramente mi stupisce perché sotto copertura team qui avevo sempre avuto una pessima copertura anche quando provai la sim di kena la sim di fast web quando era sotto copertura team insomma non si muoveva era proprio la peggiore adesso ragazzi sta andando a manetta è una cosa fuori testa arriva quasi come vuoto hanno fatto uno spit test poco fa ma ve lo posso fare anche vedere in diretta web cop voce il servere a ruba spa di arezzo e guardate quanto sta andando in questo momento c'è adesso sta sorpassa anche 100 ragazzi veramente veramente mi ha stupito questa questa copertura team mi ha stupito molto perché diciamo che quasi pari alla vodafone quello che io sapete poste mobile direi ottimo il download e c'è l'upload insomma questo qui siamo su 2 e 30 lassù in alto lo vedete non è non è chissà che ma la cosa più importante chi può fare questa offerta quindi chi può usufruire di questa offerta i nuovi clienti sicuramente anche i già clienti come magari il sottoscritto che ha fatto e sim ho provato le sim gratuitamente e questa è stata una cosa secondo me cop voce è molto azzeccata perché ha dato la possibilità di provare questa sim cop voce e sinceramente io sono rimasto contento perché veramente non pensavo che la copertura team qui da me fosse cambiata così in meglio quindi se volessi potrei aggiornare fare l'upgrade a questa 200 giga a 7 euro e 90 che sicuramente mi come perché mi converrebbe insomma per chi ne ha bisogno sicuramente perché perché vai a spendere un po meno ai 50 giga in più importabilità non c'è scritto almeno nel volantino non c'è scritto che è fattibile farlo anche importabilità io penso di sì perché bene o male quando vai a vedere un'offerta vai a selezionare il tipo di offerta ti chiede sempre se vuoi mantenere il numero oppure importabilità io penso di sì anche se non c'è scritto comunque vi aggiornerò lo scopriremo dal primo settembre bene ragazzoli io direi che questo è tutto grazie per essere qui fino alla fine del video secondo me questa è una tariffa molto molto interessante come avete visto la migliore rispetto a tante altri per un costo di 7 euro 90 per avere 200 giga senza tante rotture di scatole interessantissimo specialmente chi ha una copertura team che ha esigenze di tanti giga questa sicuramente tra le migliori offerte vi ricordo che potete scegliere sia la sim oppure da essi non cambia assolutamente nulla bene noi ci vediamo in un prossimo video non so quando uscirà perché come avete visto è un po che manco però sapete in agosto si slavorica un po di più dalla prima settimana di settembre andrò in vacanza poi magari vi posterò qualche video non so se farò qualche speed test però vi manderò se ci saranno novità che solitamente i primi del settembre ci sono delle novità sulle sulle offerte specialmente adesso che con voce scapperà fuori con questa offerta quindi gli altri gestori sicuramente dovranno fare qualche cosina e noi siamo qui ad aspettarli il solito saluto ai nuovi iscritti e il solito abbraccio che vi vuol bene ciao ciao d'attento